Buongiorno a tutti, nuovo affare in edicola. Ieri che era venerdì è uscito il nuovo numero della rivista Silhouette Donna e allegata c'era questa palette della Essence, precisamente la G Day Sydney e ora andrò a mostrarvela nel dettaglio. Ma prima vi mostro la copertina della rivista Silhouette Donna. Potrete acquistare la rivista Silhouette Donna con la palette allegata al prezzo di 5,90€. Qualora non vi piaccia la palette, potrete acquistare la rivista con allegato un eyeliner al costo di 3,50€. Ora vado a mostrarvi nel dettaglio gli ombretti. All'interno la palette è qualcosa di meraviglioso. C'è lo specchietto e intorno un uomo che pratica il surf e che ha tra le mani la sua tavola da surf. Si vede sullo sfondo il meraviglioso paesaggio di Sydney con il mare. E anche gli ombretti hanno i colori della terra e del mare. Guardate che bella!